Questo Natale il Centro Sportivo Sulmona ha scelto di fare la differenza, di fondare la solidarietà, scegliendo di sostenere il progetto HOME di 30 ore per la vita. L'associazione nasce nel 1994, come programma TV rappresenta una delle prime esperienze in Italia di sensibilizzazione e raccolta fondi promossa, organizzata da un ente no profit in favore di altre associazioni e organizzazioni di volontariato. Il progetto HOME è un'iniziativa che ha lo scopo di costruire residenze gratuite vicino agli ospedali per bambini gravemente evalati e le loro famiglie che devono spostarsi di città, regione o paese per accedere alle cure specializzate. Sappiamo quanto questi spostamenti siano gravosi, commentano dal Centro Sportivo di Sulmona della piscina comunale, non solo dal punto di vista psicologico ma anche economico. Queste scrutture rappresentano un faro di speranza per tantissime famiglie in un momento così difficile, soprattutto a Natale che per antonomasia il Natale è casa.